Un saluto a tutti gli italo-venezuelani da Osaka. Sono Vincenzo Naci, l'allenatore della nazionale di pallo a volo venezuelana. Oggi sicuramente per me è una partita molto diversa, una partita con sensazioni diverse. Giochiamo contro la nazionale italiana. In questo momento per me è una sensazione molto bella. Non potevo immaginare di affrontare una nazionale italiana in una competenza così importante, però ora siamo qui e il primo pensiero è sicuramente alla nazionale venezuelana a poter fare sicuramente una buona partita. Penso che oggi i ragazzi, come io, hanno uno stimolo in più. Anche i ragazzi avranno uno stimolo in più a giocare bene questa partita.